Salve a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo episodio di FIFA il viaggio di Hunter Secondo episodio della giornata e adesso andiamo avanti Ci sarà, dobbiamo fare allenamento ragazzi, non so se nel video precedente l'avevo fatto vedere Comunque non è la prima volta Andremo ad affrontare una partita Vediamo, ci aspetta MLS All Star contro il Manchester United per una partita di Coppa Allora ragazzi io sono molto indeciso fra controllare Hunter o controllare l'intera squadra Perché l'intera squadra abbiamo visto com'è Hunter, non so ecco la visione E poi onestamente penso sia più noioso nel video Quindi mi sa che conviene assolutamente controllare l'intera squadra Penso che per voi possa venire più noioso Questa volta non abbiamo Niente, addirittura queste infatti sono le MLS All Star Di soltanto c'è Giovinco perché comunque sono appunto come ha detto lui I migliori Giocatori delle MLS Ragazzi questa sarà molto difficile con le partite, non me ne ho reso conto all'inizio Perché per questo vorrei indeciso se controllare Alex o no E meno male che ho scelto di controllare l'intera squadra perché guardate qui Ragazzi io veramente credo che questa la perdo, io ve lo dico Potenziale Ma non è per niente facile, ci ho provato, non è fuori gioco Non è fuori gioco Un numero di Hunter e ci prova pure, grandissimo Mi è piaciuto molto sia il numero che poi il tiro Tant'è che c'è stata Deviazione C'era quasi un bel colpo di testa Attenzione al contropiede, Giovinco è questo? No, è Villa 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 Ok Ti ho visto, ti ho visto solamente Pogba Pogba, Pogba Uomo assist Hunter E Pogba C'è il balletto con Hunter per l'1-0 Veramente grandissimo E' grande anche il balletto con Hunter Attenzione ragazzi Matic Ancora una volta Hunter Per Martial che errore Ma dai Uuuu si fa superare così Da piatti Attenzione Valencia Attenzione C'è De Gea La prova passare subito ad Hunter Che riesce a intercettarlo un attimo Ma poi Ovviamente Mr. Pressing Non è riuscito Hunter prova un po' a scattare Sempre con il pelatone Lo vede lì Martial Dietro Grandissima azione Superba l'azione Attenzione Villa In contropiede Se ne approfitta Attenzione Il subito Jovinco Chiuso da Martial Per fortuna Ma avete visto che numero ragazzi di Hunter Attenzione 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 A Valencia Valencia In area Mamma mia Piatti I piatti Nikita Nikita Hunter 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 Attenzione Ad Hunter Che tiene palla Vedere lo scatto Servito perfettamente Lo mette al centro Bruttissimo Questo passaggio Veramente Orribile Ci pensa Hunter Voleva anticipare Ma niente da fare C'è uno ragazzi Che è infortunato Il mister Non lo cambia Hunter Hunter L'avete lì Lunga Bellissimo Questo lancio Per Nikita Un cross La restituisce Ad Hunter Grandissimo Veramente Un'azione Stupenda Le cose giuste Attenzione Sì Attenzione Sì Uh Attenzione Anticipato Hunter Ma Quel cross Che aveva fatto Grande Vittoria Ottimo Stazione Convincente Mourinho Contento Hunter Saluta Un'ottima Prestazione La sua Bene Speriamo Ovviamente Di seguiremo Con l'attenzione Che tutto andrà bene Per garantirvi Una Perfetta Copertura Dell'evento Ok Ci siamo Vediamo ora Che succede Ragazzi Spogliatoi Un assist Insomma Ho un attributo Lo miglioro Questa volta Ragazzi Piede Debole Tiro di esterno Questo Voglio migliorarlo Di più Ok Andiamo avanti Ragazzi Vediamo che succede Ci sarà un filmato Penso Penso Ecco Ci penso Io La stagione È già iniziata Alla grande È stato bello Vincere un trofeo Mister Ma sarà ancora più bello Riceverne uno vero A fine stagione Se in Premier League Giocherai come hai fatto In questa tournée Abbiamo ottime possibilità Grazie per la fiducia Mister Ti piace la Coppa Hunter Bene Tutti puntano molto Su Hunter Ragazzi Ritorno al passato Allora Abbiamo ottenuto Un'avanzione Almeno 8 Nella partita D'allenamento E vabbè L'abbiamo fatta Non abbiamo Concluso almeno 10 volte in porta Nel tour Precampionato Cioè Mi mancavano 3 Che sfiga E ho vinto Il torneo Peccato per i 10.000 follower Ma va bene Premio FIFA Ultimate Team Sbloccato Usa il tuo premio Per migliorare la tua rosa In FIFA Ultimate Team Continuo il viaggio Poi lo faccio questo Ok ragazzi Siamo tornati a casa E che casa Vediamo Mi hanno menzionato In un post Tutti gli occhi sono puntati Su Mister Alex Anche i miei Bene Andiamo avanti Ci abbiamo ragazzi Un'altra Partita Però Se io Giova un'altra Partita Ragazzi Il video Viene Troppo Troppo Lungo Anzi Vediamo Ci siamo Nuova stagione Nuove facce Si torna al lavoro Quest'anno Dobbiamo assolutamente Fare di meglio Impegnarci di più Ogni punto è fondamentale In questo campionato Ora Tutti fuori E fate vedere a me Al Mister Cosa sapete fare Forza Coraggio Ok ragazzi In sostanza Sono titolare Ok In sostanza Sto dicendo Inizia La Premier League E questo è il secondo Capitolo Ora Lo registrerò Questo qua Nel prossimo Video Perché se no Viene davvero lungo Voglio Giocarla bene Benissimo ragazzi Per questo video è tutto Io spero tantissimo Che il video vi sia piaciuto Se così fosse Restate un mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto E ci vediamo Ad un prossimo video